Salve a tutti, purtroppo siamo tutti rinchiusi in casa, purtroppo o per fortuna, per chi di noi ha questa fortuna di poter rimanere a casa, ci sono categorie che devono affrontare il problema, ci sono purtroppo molti decessi, quindi è una situazione sanitaria, sociale ed economica devastante che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di dover affrontare nella vita. Sto continuando il mio lavoro, chiaramente da casa, volevo quindi avvisarvi con questo video che per le persone che hanno bisogno di un consulto di andrologia o di urologia ho ampliato quello che già era in corso da anni, un mio modulo, una mia piattaforma per i consulti online, in modo da poter parlare con calma attraverso video whatsapp, con la possibilità chiaramente di inviare richieste di esami e se serve le ricette, come si dice adesso, dematerializzate. Mi auguro che al più presto tutto questo non serva, anche perché un videoconsulto può dare un'indicazione, un indizio, ma non può certamente sostituire l'approccio umano e empatico che si ha nella comunicazione tra persone e nello stesso tempo impedisce chiaramente l'esecuzione di una visita e chiaramente anche di un'ecografia, però talvolta un consulto o una spiegazione può essere molto utile, come anche il rinnovo magari banalmente di una ricetta nelle persone già seguite. Ci tenevo quindi a mandare questo video perché da un po' di tempo che non ne produco, salutare tutti i miei amici, i miei pazienti e restare a vostra totale disposizione. Metterò sotto al video il link per l'eventuale, se necessario, videoconsulto, con l'augurio di non sentirvi e non vedervi perché non vi servo. Un abbraccio a tutti e speriamo di uscire prestissimo da questa situazione.